Gentili telespettatori, buona giornata. La sinistra tifa per il processo Open Arms, ovviamente. Scusassero, scusassero, ma quando il Senato ha autorizzato il processo per Salvini, secondo voi qual era il fine se non quello di farlo finire in galera? I suoi ex alleati Grillini improvvisamente hanno visto in Salvini una specie di mostro. Prima no. Prima erano d'accordo, poi quando è diventato avversario lo hanno mandato a processo. Quindi la sinistra, l'area politica di sinistra sognava un politico, cioè Salvini fuori dei giochi politici con qualche condanna. Oggi che Salvini è depotenziato, non è più il leader, non è più il candidato premier, anzi è il numero due, il numero tre, quello che volete nel centro-destra, non è poi così importante. Però rimane comunque il sogno della sinistra. Berlusconi era stato cacciato dal Senato è quello che sognano anche per Salvini. Ma oggi c'è Meloni e allora l'ultima della sinistra è Meloni da incriminare. Eh sì. E chi racconta questo? Parliamo di Furio Colombo. Per quale reato? Eh beh, il reato di rallentare gli sbarchi. Quindi Salvini praticamente era stato definito una specie di sequestratore perché non faceva scendere. Mentre la Meloni praticamente facendo andare le navi ONG più lontano del solito, con quattro giorni di navigazione, e allora si potrebbe ipotizzare un reato per appunto rallentare gli sbarchi. Che reato? Loro ci metterebbero il reato di tortura. Ecco, questa sarebbe l'ideona di Furio Colombo, già parlamentare e direttore dell'Unità. Lo racconta durante la puntata sulla sette dell'aria che tira il 13 gennaio, proprio oggi, venerdì 13 gennaio. Si parla di migranti, si parla di degreto ONG. La recente assegnazione di un porto sicuro di Ancona per Ocean Viking e Geo Barents, invece che i Sicili a Calabria, fa indignare questo signore che dice allungare il viaggio di persone, è mostruoso, dice, intervistato da Mirta Merlino. Secondo Colombo, assegnare un porto che non sia quello gradito, ma un altro qualche giorno di navigazione è un crimine. voi ricordate, voi sapete che fino a poche settimane fa le ONG si piazzavano davanti la Sicilia, stavano lì a galleggiare anche 10, 11, 12 giorni perché l'Italia negava un porto. Invece di andare, non so, in Spagna, in Francia, no, rimanevano davanti ai porti siciliani a star lì per giorni e giorni e sarebbero sbarcati prima i migranti se fossero andati in un porto diverso da quello italiano, ma no, loro devono sbarcare in Italia perché così hanno deciso. Quindi quattro giorni di navigazione per Ancona non sono certo i dieci giorni che stavano lì a galleggiare invece di andare in Francia o in Spagna. Quindi quattro giorni di navigazione sono meno della metà del tempo che loro perdevano prima stando davanti le coste italiane. Quindi questo reato criminoso io non lo vedo anche perché l'Italia ha il diritto di assegnare qualsiasi porto e poi parliamoci chiaro, l'assegnazione di un porto lontano è fatto apposta, è fatto apposta per far perdere più tempo possibile a queste ONG e per fargli spendere più soldi possibile come carburante. Questo è l'intento. Ovviamente non si può dire, il governo non può dire, ah non lo stiamo facendo apposta così. No, dice no perché i porti della Sicilia e della Calabria sono congestionati, un porto congestionato da che? Capite che non c'entra niente. Porti enormi che sono congestionati perché arriva una barchetta con 40 persone? Dai, su. Quello è quanto si deve raccontare all'opinione pubblica perché non si può dire lo stiamo facendo apposta, un governo non può dire lo stiamo facendo apposta. Lo stiamo facendo perché i porti siciliani e calabresi sono pieni di lavoro. Naturalmente quella è la risposta che si dice telefonata, poi la risposta vera non è, come dice la sinistra, mandano nei porti di sinistra. Quella è un'altra sciocchezza e la realtà invece che viene fatto apposta per rallentare il più possibile le attività di queste navi che poi hanno deciso, piuttosto che mettersi a tu per tu con il governo, infrangere le regole e poi essere sequestrate queste navi, hanno deciso di rispettare le regole, zitti zitti vanno a Ancona, vabbè vanno a Ancona, vanno lì, rispettano le regole, sbarcano e ripartono come adesso queste due navi Geo Barenz e Ocean Viking stanno ripartendo per le loro missioni. Ma per la sinistra il politico 92enne perché Furio Colombo, 92enne, dice che bisognerebbe incriminare la Meloni, insomma. È proprio così. All'estero non penserebbero mai una roba del genere, né a destra né a sinistra, invece in Italia sì. In studio c'è anche Maurizio Gasparri, quello che dice Furio Colombo è grave, inaccettabile. Inoltre Colombo dice se ci fosse una legge, ma la legge c'è. Se il governo ha violato la legge, incrimineranno Meloni, dice Gasparri. Quattro giorni di tempesta, dice l'altro, perché queste navi con la tempesta hanno dovuto fare quattro giorni di navigazione, ma le argomentazioni di Gasparri vengono definite da Colombo infantili. Vabbè, insomma, cosa vi devo dire? Infantile a me sembra tutta la politica italiana. Infantile, bigotta, ipocrita, muri ideologici. C'è poco realismo, poca concretezza e poca onestà intellettuale barra politica. Molto, ma molto poca. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.